Locauto 2, la tua concessionaria ufficiale Peugeot con 9 sedi in Piemonte. Ci trovi a Torino, Moncalieri, Chieri, Rosta, Roletto, Novara, Trecate e Vercelli. Da noi puoi trovare tutte le offerte e le promozioni delle nuove vetture Peugeot. Peugeot 108, a partire da 179 euro. Con anticipo zero, grazie al finanziamento Peugeot iMove, TAN 4,75, TAEG 7,66. In pronta consegna PureTech 72 cavalli Active, completa di climatizzatore, touchscreen e Bluetooth. Peugeot 208, a partire da 9.950 euro. Con finanziamento Peugeot iMove, anticipo zero e rate da 199 euro. TAN 4,75, TAEG 7,13. In pronta consegna PureTech 82 cavalli Active, completa di climatizzatore, touchscreen, MP3 e Bluetooth. SUV Peugeot 208, a partire da 139.950 euro. Con finanziamento Peugeot iMove, anticipo zero e rate da 229 euro. TAN 4,75, TAEG 6,65. In pronta consegna PureTech 82 cavalli Active, completa di climatizzatore, touchscreen, MP3, Bluetooth e sensori di parcheggio. SUV Peugeot 3008, a partire da 249 euro. Grazie al finanziamento Peugeot iMove, TAN 4,75, TAEG 5,95. In pronta consegna BlueHD 130 cavalli, completo di climatizzatore, navigatore 3D e cerchi in lega. Locauto 2 è concessionaria ufficiale Peugeot Professional. Tutta la gamma dei veicoli commerciali Peugeot adatti al tuo lavoro. Furgoni, cassoni, furgonature e isotermici. Nuovo Peugeot Partner Furgone, a partire da 139 euro, IVA esclusa. Grazie all'easing Peugeot, TAN 1,99, TAEG 3,57. Completo di tre posti, climatizzatore, fendinebbia e porta laterale scorrevole. Tutte le promozioni sono valide per veicoli in pronta consegna, per contratti stipulati e matricolazioni. Entro il 31 agosto 2019. Finanziamenti salvo approvazione banca PSA. Scegli il punto vendita più comodo per te. Torino, strada Pianezza 275. Rosta, corso Moncenisio 79. Roletto, via Torino 2. Torino, corso Turati 63. Moncalieri, corso Savona 25. Chieri, via Padana Inferiore 114. Caresana Blot, via Vercelli 61. Novara, località Lumellogno, via Pierlombardo 228. Locauto 2, la tua concessionaria ufficiale Peugeot con nove sedi in Piemonte. Ci trovi a Torino, Moncalieri, Chieri, Rosta, Roletto, Novara, Trecate e Vercelli.